Ehi, ehi, voi avete notato se c'è qualcosa di strano per caso? Hans ha fatto qualche ritocchino un'altra volta, ma non c'è nulla di strano in questo. Quello che è strano secondo me è quanto sembra sexy Desi quest'anno. Mi sa che l'esce con qualcuno. Desi non esce con nessuno, Rotti, e sicuramente non con un perdente. Non vi ha mai detto nessuno che vi somigliate davvero tantissimo. Non è che siete parenti, vero? No, di certo, io vengo dai Tennessee. E io invece da Chicago. Sei nato lì? Beh no, perché in realtà sono stato adottato. Ma dai, anch'io! Ma non mi dite, è da dove? Campi Visenzio, Firenze! Oh, e sono nato a Campi Visenzio anch'io, eh? Anch'io, poi mi sono trasferito a Germania. E quando è il vostro compleanno? Il 19 aprile! Il 19 aprile anch'io! Allora voi siete... Fratelli! Ma io ho avuto una cucciolata a Campi Visenzio. Allora vuol dire che lei è la vostra... Papà! Cucce di miei! Tutti i concorrenti hanno lasciato la fila. Mi sono perso? Venite, mi datevi un bacio! Mammina mia! È un comportamento per cui è prevista la squalettica. Allora... Allora... Allora...